Occhio a Bonaventura che si accentra, zona tiro viene lasciato libero di calciare e raddoppia Jack Bonaventura l'undicesimo 2-0 Fiorentina, troppo spazio concesso al numero 5 L'appoggio fuori, Dybala col destro! La piazza all'angolino, Paolo Dybala al 48esimo e avanti la Juve Skolupski interviene, Jonsen ci può riprovare! Il gol di Jonsen! Il Venezia in vantaggio, 4-3 al minuto 93! Jonsen! Lazer arriva in area, tocco dentro per Luis Alberto di Suola, ancora Luis Alberto tunnel! Ma che gol ha fatto! Luis Alberto! 2-0! Carezza il pallone e poi tunnel per il gol del raddoppio! Fantasia al comando! Schauten prova con il destro! Ed è vantaggio Bologna! Il gol di Schauten! Da 0-2 a 3-2, tre gol consecutivi per il rosso-blu! Il lavoro dopo aver guardato il bambino!